Il sindacato dell'UGL Salute di Teramo ha partecipato all'audizione della quinta Commissione Sanità della Regione Abruzzo dedicata alle criticità delle ASP, aziende per i servizi alla persona. In merito alla situazione dell'ASP 1 di Teramo, il segretario provinciale dell'UGL Salute Stefano Matteucci ha richiesto un intervento urgente per garantire un'assistenza di qualità ed eccellenza agli anziani. Durante l'audizione è stato analizzato il piano aziendale presentato dal commissario Canzio che mira al potenziamento e miglioramento dei servizi nei prossimi anni. Ma Matteucci ha sottolineato l'urgenza di interventi concreti a favore dei lavoratori delle case di riposo dei Benedicti Sanrozzi coinvolte nelle controversie legali tra l'ASP e la cooperativa Polis. La situazione è abbastanza delicata perché in attesa dell'entrata in effettiva rotazione del piano industriale presentato da Canzio che è comunque un piano a medio e lungo termine abbiamo bisogno di risposte concrete nell'immediatezza perché nell'immediatezza abbiamo dei lavoratori che comunque con varie difficoltà economiche continuano a garantire un servizio di eccellenza agli anziani ospiti delle strutture. Abbiamo chiesto quindi di intervenire immediatamente per sbloccare quei famosi ristori dovuti dai vari finanziamenti europei che comunque devono seguire un iter burocratico. Abbiamo chiesto un attimino di evitare pignoramenti, decreti ingiundivi e quindi di calmare un pochettino le acque tra debiti e crediti dell'ente verso comune e viceversa ma abbiamo chiesto soprattutto di rivedere, se possibile, come già in atto, la riforma della legge delle ASP a livello regionale. L'UGL Salute ha inoltre sollecitato la rapida nomina di un direttore generale che possa garantire stabilità economica e favorire il rilancio dell'azienda. Abbiamo richiesto altresì un intervento per la riforma che sappiamo già è al vaglio dell'assessorato alle politiche sociali per quanto riguarda la figura dirigenziale che dovrà essere inserita all'interno delle ASP, in questo caso regionali, la figura del direttore generale, una persona con degli obiettivi, degli stimoli e che possa continuare comunque a portare avanti il discorso di risanamento di quest'ente. Altresì anche l'accreditamento dei posti che speriamo possano arrivare nel breve come l'adeguimento anche delle tariffe e delle rette sia a carico dell'utenza che a carico degli enti partecipanti.